Fuori al freddo dal 41 bis! Fuori al freddo dal 41 bis! Fuori tutti dal 41 bis! Fuori tutti dal 41 bis! Non sono feo, non mi cercherò un vicio, troppo rischio a negare i pensieri nello stinge! Ho lasciato questa vita in lontananza e ormai sono entrato, sono sento una speranza! Quando sono costretto a cantare a pezzo mudo, devo poi pulgare tutto quello che ho vissuto! Nel cammino della selva oscura, devo ancora rivedere sempre vita dura! L'amore senza senso, parole messe al vento! Fuori franti, senti sentimento! Travorato solo detto senza andarmi tregua, sputtando mille sangue che nessuno che ti segue! Nessi sono compulsivo per ricominciare, radia, dolore, non riesco più a parlare! Calore, cipri e re, non ne vogliamo più! Corpo sul corpo, sentiremo giù! Corpo sul corpo, sentiremo giù! Voglio portare la solidarietà alle donne e agli uomini che sono all'interno di questo carcere che per noi sono sorelle e sono fratelli! Quando sentimmo dei compagni morti a Modena, nessuno di noi credette ai morti per overdose perché intorno a noi vedevamo che cosa fosse la repressione! illumino! Lu! Natale! nostri noi! Alla alhamdulillah 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 Sappiamo che questo quartiere non se ne dimenticherà Perché è un quartiere di persone vere Per questo grazie di averci ospitato Ci vediamo presto I punti che c'eravamo prefissi per questa giornata Sono stati raggiunti Modena si è ricordata i 9 morti della strage Abbiamo salutato i detenuti e le detenute Davanti al carcere Siamo passati per il quartiere Sacca Che appunto è un quartiere Che a noi è molto caro Non solo perché è vicino al Sant'Anna Ma anche per quello che è stato ricordato in corteo Ovvero che è un quartiere In cui le persone vengono avvelenate tutti i giorni Le lotti sono unite Quindi è stata una bella giornata Questa ora non lo so Questa l'adrenalina che cala